ciao a tutti e benvenuti su tech gaming se streamate sia su twitch sia su mixer è importante sapere una cosa se utilizzate software come streamlabs obs oppure obs studio bisogna cambiare la chiave di streaming prima dello stesso cioè mi spiego meglio se utilizzate solo twitch solo mixer non ci sono problemi una volta che avete configurato il software ok se invece vi alternate quindi una volta mixer e una volta twitch dovete fare questo lavoro andate nelle impostazioni una volta aperto il software andate su dirette qui selezionate mixer o twitch in questo caso se ad esempio streamate su mixer e avete selezionato mixer non ci sono problemi ma se volete cambiare e selezionare twitch non vi basta cliccare su twitch e su ok ma dovete collegare il vostro account twitch ci sono due modi o tramite connetti account e quindi dovrete digitare user e password e confermare il tutto un'operazione diciamo a volte monotona e lunga rispetto la chiave oppure utilizzare appunto la chiave quindi andate su mixer o su twitch in questo caso twitch e copiate la chiave attenzione a non rivelare la chiave a nessuno perché altrimenti possono streammare sul vostro canale senza il vostro consenso quindi andate nelle impostazioni andate su collegamenti non mi ricordo che i canali e video scusate canale video copiate la chiave questa qui quindi cliccate su copia andate qui utilizza il codice delle dirette incollate la chiave e cliccate su ok dopodiché riavviate il software per streammare su twitch naturalmente lo stesso discorso vale per mixer però per mixer la chiave si trova qui adesso ve la mostro quindi aprite mixer andate sul vostro canale dashboard di trasmissione cliccate su questo pulsantino in questo modo copierete la chiave poi dovete fare la stessa procedura quindi impostazioni dirette mixer adesso sono già logato quindi non la devo inserire di nuovo però dovete fare la stessa operazione un'ultima cosa assicuratevi di rimuovere e inserire nuovamente la fonte perché a volte capita che magari strimate su twitch su mixer non si sente l'audio quindi una volta che avete impostato la chiave e quindi avete cambiato la piattaforma riavviate il software dopodiché levate la fonte con tasto destro rimuovi sì e inserite la nuovamente questa purtroppo è una procedura da fare soprattutto con dispositivi esterni perché ho notato che sia slim labs che questo hanno questo bug che praticamente stream senza audio se non fate questa cosa quindi assicuratevi che tutto sia in regola e poi potete strimare se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale per supportare tech gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento ciao ciao Grazie.